pronto pronto chi è giuliano secondo benvenuto tolga le mani chi ha scritto ti pubblicò come imparare a suonare il formaggio cavaliere 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 fermi chissà sopra il cavallo ma non è che i cavalli giuliano a lei voi c'avete un cavallo certo 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 Allora pronto? Pronto 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 Allora pronto? Pronto 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 Allora Devi vendere il pesce L'avete mai visto un formaggio? Sì 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 L'abbiamo visto Formaggio Ci passi mio fratello Atleta di cavallo, atleta di cavallo Arrivederci A lei